vediamo il lancio con Rossella Luiz e Regina Prinzi alle prese insiste Regina Prinzi a lato di Rossella Luiz più indietro c'è Ragazzo dei Sogni attacca decisamente numero 2 Romano Rizia e Senne squalificato della racca mentre il rovesse è stato squalificato proprio Robin Udo M 14.6 il lancio per Regina Prinzi che sfonda su Rossella Luiz conduce quindi a buona andatura dopo 300 metri di gara due lunghezze di margine su Rossella Luiz più indietro Ragazzo dei Sogni cerca di riportare sotto il gruppo intanto il quarto iniziale se ne va in 29.2 primo quarto molto sollecito per Regina Prinzi Rossella Luiz si riavvicina in curva insieme a Ragazzo dei Sogni poi lungo la corda Raja Amatley all'esterno si impegna invece Risk BF in risalita esterna il 600 in 45.2 intanto muove Ragazzo dei Sogni in anticipo poi torna sotto e Risk BF progredisce ma c'è la terza ruota di Robin Udo M incontra alcuni ostacoli sul percorso se ne sbarazza comunque affronta in terza ruota la penultima curva e cerca di approdare a ridosso di Regina Prinzi che completa il chilometro in 1.15.8 Robin Udo M però insiste all'esterno e si avvantaggia a 500 dalla conclusione prende la testa prima del paletto dei 400 metri conclusivi scende in corda il parziale in 14.2 1.30 in tre quarti di miglio prende subito vantaggio Robin Udo M che si distacca in avanti è inseguito da Rossella Luiz Robin Udo M con due e mezzo di vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo ultimi 150 di gara con Robin Udo M che controlla la situazione nel finale non si lascia più avvicinare viene a concludere netto dominatore Robin Udo M Lorenzo Besano la lotta per il secondo vede emergere forse a centro pista Nani Rob ma c'è anche Risk BF molto vicino quindi foto stretta per il secondo posto anche perché i due contendenti sono molto larghi tra loro andiamo a rivedere se da queste immagini riusciamo a è difficilissimo davvero difficilissimo forse Risk BF forse il cavallo all'interno che dovrebbe essere Risk BF riesce ancora a contenere Rani e Rob ma è un arrivo serrato mentre per il quarto finisce il numero 4 Rossella Luis avanti a Rajamatli in questo l'ordine d'arrivo ancora ufficioso quello che certo è il successo nettissimo per Robin Udo M e Lorenzo Besano il training di Antonio Porzio Grazie a tutti Grazie a tutti